Ciao, sono Veronica e sono la trainer del parco. Mi occupo delle attività con il pubblico e con gli animali e sono specializzata a raccogliere gli stati d'animo, le emozioni e tutte le attitudini degli animali che lavorano con me. Potrete quindi scoprire insieme a me come creare un solido legame con gufi, poiane e papagalli.